Sabato 6 e domenica 7 settembre Pescia è stata al centro di un appuntamento formativo legato al Master Interfacoltà di secondo livello in Scienze Forensi, Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence dell'Università di Roma La Sapienza. I sindaci hanno un ruolo importantissimo in tema di sicurezza urbana, una interazione continua tra le amministrazioni comunali e le famiglie, i cittadini perché ognuno abbia consapevolezza del proprio ruolo e ognuno intervenga nel suo campo per evitare che si verifichino i fatti che stanno rattristando questi ultimi tempi. Due giornate di esperienza pratica guidata che ha visto la partecipazione di esperti del settore e studenti del Master con l'obiettivo di approfondire le funzioni del dirigente delegato per la sicurezza urbana, una figura professionale introdotta dalla legge 4 del 2020 della regione toscana. È fondamentale infatti per la sicurezza urbana interagire proprio come una squadra con tutti gli altri attori della comunità e del territorio, in particolar modo il tessuto associativo e anche la cittadinanza attiva vengono coinvolti in questo tipo di progettazione che interviene ovviamente a livello di prevenzione nelle situazioni di degrado sociale, di marginalità e anche di riqualificazione proprio urbana del territorio.